diciamo che tutto questo doveva sì succedere 30 minuti fa manuale porcina cambio dell'inquadratura e troviamo il professor marino d'amore troviamo sandro buon vissuto che torna a trattare bene ecco filosofo ecco non non sacerdote perché non è bene ho tentato ma non sono stato non hanno preso ne sono testimone è vera questa è vera questo no no immagino allora sandro buon vissuto da filosofo si ti faccio vedere delle immagini ti faccio vedere le immagini ovviamente non vorrei che poi ci cancellassero il programma quindi con sempre un po di decoro e letto commento queste sono delle immagini black friday persone che che attendono il l'aprirsi di questa serranda di questo negozio pronte a scatenarsi ad accaparrarsi la migliore offerta il miglior prodotto al miglior prezzo possibile cosa siamo diventati sandro buon vissuto purtroppo ho visto già come di qualcosa del genere le file di notte insomma il giorno prima la sera prima addirittura non è e devo dire non erano erano avvenimenti così cose che saranno viste anche nella mia generazione però per ben altri motivi noi avevamo fatto file la notte per i concerti per le biglietti delle partite no per eventi per eventi non solo con una con una base fortemente con una prospettiva anche di aggregazione come poteva essere l'episodio della della musica come ancora di più quello della della di tutti coloro che vengono trascinati poi dalla passione del pallone ne abbiamo fatto le le ma dietro c'era una 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 grossa giustificazione che era quella della dell'amore della passione per quella per quella cosa che erano ovviamente che sono eventi che hanno una grande ricaduta nel nel nell'immaginario del singolo e anche naturalmente collettivo era bello ritrovarsi fare le file sa chi appello attendere l'apertura dei cancelli constatare i ritardi guardarsi insomma c'era tutt'altro romanticismo oggi la gente vive come dire in una dimensione di di solitudine drammatica in quelle file realtà ciascuno di loro è solo nel col suo piccolo progetto no di acquisizione di quelle di quelle di quel di quel beneficio di quello di quello sconto di quelle io sono sono mortificato però per chi vede queste cose magari non appartiene come dire a società come come la nostra io confine nelle file ognuno è solo credo sia un'immagine così meravigliosa e noi abbiamo fatto mezz'ora effettivamente poi le le punte che tocca il dottor buon vissuto immagino anche chi ci vede da casa che ci rivolgiamo l'uno all'altro in questo modo cosa penserà in questo momento e però insomma è una visione la mia strettamente tecnica però non tocco quelle vette filosofiche che vedere questo in in una fila davanti a un euro è tanta roba insomma quello che dice lui la radice che è diversa andiamo a fa sta cosa andiamo tutti andiamo insieme lì nessuno lo vuole far sapere all'altro che vado io prima di te anzi in te lo dico te parcheggio una macchina dietro la tua così io arrivo prima di te lì si andava tutti insieme si dormiva ci portava i viveri c'era un dispiacere per chi non poteva partecipare no allora era già quella la festa la festa era già andare lì e farsi la notte fuori dal botteghino per comprare quello che dici tu ma che in genere non era un bene di consumo era un qualcosa che aveva una lontana parentela con la cultura o il biglietto di un evento mediamente ve l'ho detto un evento sportivo ma anche il concerto perché no cultura pop è cultura più senz'altro più frivola però ecco quella lì è una cultura invece strettamente di materialistica ecco è purtroppo si è profondamente individualista è l'esito è l'esito una grande frammentazione che che è poi la speculare opposizione all'aggregazione certo di vivere qualcosa insieme è quello è quello che hanno dato delle cose ma torneremo secondo voi ad essere quelli lì quelli del botteghino delle notti fuori non per un errore credo 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 non so se sei d'accordo che sia una questione strettamente è disperato sandro bovissuto no disperato perché perché purtroppo ovviamente non dobbiamo risolverla noi no le nuove generazioni sapranno venire fuori anche da questo fango perché non dovete credere la l'umanità si corrompe anche con lentezza non è una cosa così insomma fulminea che in capo a un paio di generazioni si perde magari c'è effettivamente se parti con un ragazzo c'è una convenienza un ventenne dice no c'è vado là perché faccio questo risolvo così poi e va bene però vi dico purtroppo tutto fa parte di un di un progetto di isolamento del singolo per il quale oggi la la circostanza materialista che diceva lei che è stretta va a braccetto con quella economica ci parla attraverso gli strumenti singolari il telefonino no che con gli accessi sa quello che tu vuoi quello di cui tu hai bisogno ti dice oh guarda c'è uno sconto per te tu stai a fare un'altra cosa quindi prendi tutto la lettera no e allora praticamente è quello che siamo siamo all'interno di quella di quella di quella macchina economica però c'è un discorso anche diverso da fare là c'è attraverso i social c'è la promessa di una finta aggregazione nel senso che sono pienamente d'accordo sul fatto che c'è sicuramente un individualismo di fondo in tutte queste cose una personalizzazione dell'offerta della scelta di consumo però i social attraggono proprio perché c'è una possibilità una promessa di aggregazione che magari non si riesce a realizzare nella realtà e viene vissuta lì come un miraggio ma è qualcosa di effimoro assolutamente volatile no rispetto a un rapporto proprio questa voglia pensate pensate un fatto in quelle file c'è quello stilità che non c'erano ovviamente nelle file di una volta dove stavamo lì tutti per lo stesso motivo sembra lo stesso ma in realtà è profondamente è profondamente diverso e poi c'è tutta questa voglia di creare un qualcosa di esclusivo l'orologio esclusivo la scarpa esclusiva è una scarpa è un orologio perché professor d'amore perché ma è la narrazione che fa il prodotto e racconto noi non abbiamo bisogno con tutto rispetto delle scarpe di lì ma abbiamo raggiunto l'apice di questa cosa qui assolutamente no assolutamente no è un processo infieri che al di là del compiersi pienamente è molto fluido e risponde ai canoni della modernità ognuno di noi sa benissimo che domani se non tra qualche ora ci sarà un altro prodotto che distoglierà l'attenzione da quello precedente il ciclo delle vite delle cose diminuisce non si riparano più le cose se ne comprano di nuovo non solo questo penso abbia anche un po ucciso quello che è l'artigianato il made in ad esempio queste grandi catene di negozi che prediligono il fast fashion hanno ucciso quelle che magari negli anni 50 negli anni 40 negli anni 60 erano delle piccole botteghe artigian artigianali dove venivano fatti dei vestiti particolari adesso c'è a parte ritornando sull'argomento dell'omologazione si è perso questo beh ma credo sia sempre molto legato al bisogno di sentirsi in un momento storico in cui effettivamente da tempo sono crollate le ideologie sono crollate le appartenenze sono crollati i momenti di aggregazione come giustamente diceva Sandro Bonvissuto si è alla continua ricerca di momenti di contatto e di relazione e questo è uno di quelli il fatto di anche in maniera in senso lato quindi non concretamente ma in maniera assolutamente idealizzata sentirsi parte di un qualcosa più grande di noi ci rassicura una comfort zone e in invece il sentirsi fuori da quel discorso inevitabilmente ci isola è quello che in termini comunicativi per altri motivi se ci riferiamo alla comunicazione televisiva è definito spirale del silenzio chi non partecipa a quel gruppo viene messo sotto silenzio quindi o scompare perché messo sotto silenzio o viene assorbito dal gruppo per chiudere Sandro Bonvissuto il professor D'amore diceva non abbiamo raggiunto l'apice il prodotto che adesso ha meno vita non si riparano più le cose si buttano l'apice lo toccheremo quando e con cosa una visione vicina al pessimismo cosmico esattamente questo studio matt disperatissimo una biblioteca paterna la verità è che calcolate che questo incide sempre su probabilmente su una parte della popolazione ecco quello che avete visto non siamo tutti tanta gente come vedete non ci va non lo fa oppure li guardiamo no come li ammiriamo come le le come gli animali nel giardino zoologico cioè che stanno a fare questi ti sembra ti sembra è mi sembra che è esattamente quello che volevo dire io prima sì beh te sembra un assurdo dopodiché non voglio precipitare gli eventi cioè sono 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 sereno l'umanità supererà anche questo vi dico che qui si erediano dei sistemi anche di consumo che non appartengono ovviamente alla nostra cultura che noi ritiriamo in blocco da altre civiltà che importiamo come oggi siamo un grande popolo di consumatori ma legati a un'economia la cui ideologia non è qui e noi stiamo figli di quello di quello che diceva lei no prima quando faceva riferimento alla bottega o la produzione artigianale poi c'è un altro aspetto se posso e poi dobbiamo salutarvi velocemente c'è anche però l'aspetto del riciclo che è finalizzato anche a un ulteriore consumo ci sono siti come vintage in cui si vendono le cose gli vestiti che non si mettono più per poter comprare poi quelli che invece ci rendono esclusivi quindi è un meccanicismo un rapporto di causa effetto abbastanza evidente esattamente così e possiamo raccontare anche eventi di cronaca legati a questi ad esempio in francia no con tot televisori che venivano messi non so se ricordate in quel centro commerciale ad un prezzo esclusivo ressa per entrare finita botte quindi per un televisore abbiamo detto tutto grazie sandro buon visto grazie a voi grazie professor marino d'amore ci ritroviamo presto anche col professore lo vedete anche crimine e criminologia e la domenica sera con fabio camillacci e sandro bovissuto tornerà a raccontarci il suo prossimo libro che è in cantiere promesso è in cantiere non sapevo non sapevi no te l'abbiamo detto che era professor marino d'amore sprechiamo tante cose sprechiamo anche il cibo purtroppo ci sono delle applicazioni che aiutano anche contro lo spreco ne parliamo adesso insieme a introdurre l'argomento proprio con un servizio sale lo spreco di cibo nelle case italiane che ha toccato i 9 miliardi di euro nel 2022 con quasi 7 etti a testa di alimenti 80 grammi in più sull'ultima rilevazione del febbraio scorso buttati ogni settimana e quando gli alimenti finiscono nel secchio della spazzatura significa anche buttare l'energia utilizzata per la loro produzione con un costo in base ai dati aggiornati al 2022 che nel nostro paese ammonta 6,4 miliardi di euro erano 4 miliardi di euro lo scorso anno e un costo totale dello spreco di 15 miliardi senza considerare il consumo litrico per la produzione pari a 749,7 miliardi di litri di acqua annui questi i dati resi noti alla presentazione a roma del world food waste report dell'osservatorio waste watcher international di last minute market su monitoraggio ipsos per campagna spreco zero in vista del terzo world food day la giornata mondiale dell'alimentazione domenica 16 ottobre il world food waste report ha coinvolto 9 mila cittadini in nove paesi italia spagna francia germania regno unito stati uniti sudafrica brasile giappone e ha incrociato abitudini di acquisto fruizione e spreco alimentare in europa è la francia il paese che spreca meno con 634 grammi settimanali germania regno unito svettano con 892 e 859 grammi questa è la situazione anche questa spaventa ne parliamo con giovanni caponetto che è in studio insieme a noi ciao giovanni benvenuto grazie di essere più con noi grazie per avermi invitato grazie per aver accettato il nostro invito allora noi come sottopancia abbiamo inserito food blogger sì in realtà più o meno in realtà mi piace di più food preneur cioè imprenditore del cibo nel senso che non è tanto la creazione di contenuti quello che mi interessa quanto la creazione di cose che poi la gente possa utilizzare nel proprio rapporto col cibo voi parlavate di spreco alimentare io come dire uno dei temi dei miei temi della mia cucina essenzialmente cioè non sprecare mai niente come fai non sprecare mai niente con la conoscenza cioè sapendo cosa fare di tutti gli ingredienti con un po di creatività e magari invitando a cena qualche amico stiamo meno soli siamo meno isolati come si diceva prima tu cucini giovanni il cucino costantemente dalla mattina alla sera quali sono i tuoi piatti forti non ho la risposta nel suo io cucino piatti molto umili che devono costare pochissimo c'è il mio piatto standard costa uno barra due euro di macchina tipo racconta ce n'è uno ma guarda ne ho fatto e oddio non ho la risposta nel racconto uno a caso che ho fatto tra l'altro posso causano oggi che andrà in onda tra tra presso un paio di settimane era un couscous di pesce fatto con il couscous precotto quindi una cosa anche veloce e con del pesce in scatola lo sgombro che spesso viene costato come si chiama nutriente umile ma ne lo è in realtà è un ottimo pesce molto fresco e pieno di omega 3 e tutto quel piatto bellissimo sarà costato un euro di materia prima ed era buonissimo cosa che magari noi all'interno dei ristoranti soprattutto ad oggi con il rincaro dei prezzi con il caro energia e caro bollette potremo arrivare a pagare anche 15 16 euro tra l'altro però lui dice io non sono un food blogger ci rientro perché creo non crea il contenuto da postare poi online creo però l'idea crea la soluzione per non poter spiegare cibo bene io trovo che invece tutti quelli che creano contenuti sui social legati al cibo spregano un sacco di cibo cioè per creare un hamburger la colata di pistacchio di cheddar c'è che è una cosa che anche un po stufato che poi come si dice a roma tu sei di torino io sono di torino se non si dice anche a torino stucca stucca si capisce però è il troppo stroppia senza dopo un po da fastidio è questo cioè perché loro sono anche pro cibo quindi vanno a condividere il cibo vanno a promuovere il cibo ma ne spregano tantissimo lo fanno chiaramente per l'effetto wow perché i social non sono fatti per dare informazione ma sono fatti per avere stupire esatto per avere un engagement emozionale con le persone io sono abbastanza contrario a quello che potremmo chiamare appunto food porn in questo senso perché è come se dicesse alle persone che per cucinare a caso per andare a mangiare fuori bisogno per forza del di un hamburger fatto da cinque hamburger di un chilo di carne ma un chilo di carne è assurdo a parte che fa male mangiare un chilo di carne non so come dire una ecco appunto cioè un chilo di carne ma con 200 grammi siamo già a posto ma siamo a posto per una settimana e noi la mangiamo tutti i giorni due volte al giorno tre volte al giorno quello che servirebbe in realtà più che il food porn è la food awareness ecco però il food porn attira attira tanto attira tanto ma la mia speranza è che nell'attirare tanto in realtà provi a raccontare qual è la parola dei social che chiaramente sono soltanto visiva quindi non sappiamo che odore hanno quei cibi che sapore hanno quindi se noi esageriamo gli ingredienti quindi la colata di pistacchio eccetera eccetera forse la gente che sa cos'è il pistacchio si immagina quel sapore dato e poi c'è un qualcosa che visivamente tigatura ed è questo qui il sushi è il sushi costa il sushi sì allora il sushi vero quello di che va a mangiare il ristorante la carta costa poi c'è l'olio che knit che ho un'idea molto strana sugli occhi knit tipo tipo ma nel senso che non è sostenibile cioè non è economicamente sostenibile un ristorante che ti fa mangiare così tanto pesce tra l'altro buono perché non sono mai stato male mangio mangio tre volte alla settimana alle volte e mi piace tanto mettiamola così e farti pagare magari 20 euro 30 euro cioè non ha senso tra l'altro una cosa simpatica io ho sempre mangiato gli occhi knit ma come tutti noi no fondamentalmente raccontiamoci la verità è capitato di aver preso un delivery in un ristorante alla carta ok quindi ho preso del sushi alla carta pochissimo perché costa un sacco di soldi il sushi alla carta e aveva un sapore totalmente diverso ho detto ho avuto l'effetto wow ma non era così positivo c'è ho detto oddio ma questo a me non piace in realtà era di una qualità eccelsa perché il sapore cambiava totalmente completamente ma chiaramente dipende anche dal taglio di pesce che usi dalle ingredienti che metti una cosa divertente che facevo col sushi tipo chi fa pranzo ristoranti giapponesi o cinesi giapponesi insomma non importa quando magari il pacchetto due o tre piatti per 12 euro 13 euro li portavo a casa ci aggiungevo ingredienti che avevo già in dispensa e ci facevo mangiare per due tre quattro persone quindi con 12 euro di spesa più fai altri non so due euro ingredienti con 15 euro facevo mangiare magari tre persone quindi tu quello che vuoi fare adesso è dare delle ricette dei consigli abbiamo detto su fare dei piatti ottimi assolutamente spendendo pochissimo ci hai fatto un esempio che è il cous cous fatto con lo sgombro che abbiamo fatto oggi a pranzo registrato di una cosa un po più gourmet un po più ricercato anche un po più tradizionale tipo la pizza con pochi soldi dalla pizza in realtà è un piatto molto economico se ti fai la se ti fai l'impasto in casa ammesso avere un forno che te la cuocia bene perché se non la cuoci bene è un po un peccato in realtà un piatto molto economico per un piatto molto calorico meglio sono carboidrati semplici perché alla fine sono farine di tipo 00 eccetera eccetera noi dobbiamo anche considerare un co una cosa nel costo del cibo c'è il costo dell'ingrediente compriamo e poi c'è il costo sulla nostra salute perché ad esempio adesso non voglio fare un parallelo eccessivo perché sennò poi mi linciano letteralmente la lobby dei pizzaioli verrà sotto casa però il punto è che le farine semplici quindi carboidrati semplici hanno un picco glicemico e un impatto metabolico abbastanza importante e sono dei collegamenti ancora non del tutto dimostrati sulla possibilità che alla lunga specialmente che una dieta non variata mangia solo pasta e pizza per farcela per farcela breve possa incorrere realtà in malattie metaboliche tipo il diabete quindi qual è il consiglio non è non mangiare la pizza mangiare tutto cioè mangiare quante più cose possibili e il secondo pezzo di consiglio ridurre il consumo di proteine animali per ragioni etiche per ragioni di salute per ragioni anche economiche visto che si parlava appunto di sei vegetariano no non sono io sono onnivoro ma cerco di mangiare la carne due o tre volte alla settimana anche meno in realtà idealmente solo mangiare una volta alla settimana carne bianca carne rossa allora questa è una bella domanda nel senso che la carne rossa è considerata un pochino più pericolosa sulla salute nel senso che è un po più legata appunto a malattie metaboliche tipo malattie cardiovascolari eccetera però il punto è il troppo che stroppia quindi io non direi mangiare solo carne bianca anche perché se sapessimo ce lo sappiamo chi se l'è studiato un pochino come vengono allevati i polli specialmente quelli che costano veramente poco come dire forse sarebbe dovremmo stare chiamati anche di batteria batteria batterie perché sono cresciuti come delle piante poveracci in queste batterie riempiti di antibiotici perché in delle condizioni igieniche spaventose quindi tra l'altro non so se lo sai se segui io mi diverto la sera andare io non guardo più gli influencer del cibo su instagram perché tutto finto che il food porn è morto te lo dicevo anche nel fuori onda guardo invece chi fa le reaction ai ristoranti oppure ma al cibo cucinato a casa in maniera reale dove non ci sono soldi in ballo insomma dove si fa gratuitamente no per il gusto di portare dei contenuti questo viene fatto su youtube da molte persone ce n'è uno che noi stiamo provando a portare su cucinato la tv più e più volte da un appello che io faccio perché questo appello condividete questa cosa e taggate come si dice a roma a stecca a manetta franchino er criminale che in realtà la fedina penale pulitissima perché perché lui questo cosa fa questo ragazzo va in giro in pizzeria ristoranti e assaggia prova e dai suoi voti ovviamente non prende dei soldi perché altrimenti non potrebbe dire che il prodotto non è buono e poi fa una mappa in cui da i voti e tu puoi andare a vedere qual è la pizza da dieci e lui racconta proprio questo cioè ci sono i pomodori lui racconta olandesi che sono mamma mia quei pomodori grandi così tutti uguali identici che non sanno di niente sono finti i polli che sono dei polli di batteria quindi dozzinali lui li chiama anche di laboratorio insomma tutte queste cose fatte di sì c'è anche un problema il pomodoro di batteria pieno di antibiotici crea resistenza agli antibiotici in noi cioè noi ci stiamo letteralmente ci rischiamo la nostra stessa estinzione per il cibo che mangiamo quindi dovremmo essere un attimino più accorti mangiare meno carne però perché non ce lo racconta la televisione perché non abbiamo dei qualcuno che ci spiega queste cose perché comunque andrebbe a disincentivare il compratore medio che va in un supermercato e deve cucinare magari non va in macelleria ma nel supermercato trova il pollo in offerta lo compra e sapendo queste cose avendo comunque una una sensibilizzazione a quello che è il non uso di questi materiali andrebbe contro ogni insomma interesse ma io non so voi noto un qualcosa che sta cambiando nel senso che prima i locali che utilizzavano ma anche pizzerie per fare un esempio con un pasto semplice nella pista la pizza utilizzavano che utilizzavano i materiali di primissima scelta di primissima qualità molto freschi a chilometro zero costavano di più e quindi la gente non ci andava ci andava di meno perché perché era di nicchia ora che succede che tutti quelli che fanno il food porn quindi che ti creano sti panini pieni di cose che costano un sacco di soldi e sanno di poco sono belli da vedere ma sanno di poco e non fanno nemmeno benissimo credo che altro quello costano tantissimo e quindi la gente adesso sta iniziando a capire la differenza e va a mangiarsi quella pizza che usa ingredienti freschi a chilometro zero che costa un po di più ma preferisce quello va bene perché fa un investimento sulla sua salute sulla sua vita b perché sta aiutando anche sia il ristoratore ma anche tutta la filiera di produzione essere pagata il giusto però tu pagli un po paghi un pollo 3 euro 4 euro ma questo pollo che pollo è c'è un pollo deve costare di più deve costarne magari 12 15 euro tu direi ma non lo posso mangiare tutti i giorni giusto non devi mangiare tutti i giorni e soprattutto quando lo prendi mangialo tutto lei mi ha fatto una ricetta che andrà in onda penso la settimana prossima se non ricordo male o domani adesso un attimino di basta guardare tutti i giorni di cotta e di crudo andrà in onda su di cotta e di crudo e si chiama il pollo rispettato il pollo rispettato io ho preso un pollo allo spiedo da 900 grammi circa e ci ho fatto 4 ricette crudo ovviamente no 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 già come si dice già arrostito e quello è di batteria? no era un pollo in teoria era un pollo da come si chiama? allevato a terra allevato a terra poi onestamente non mi dire non sono andato così nel dettaglio però costava il doppio dell'altro di fianco quindi mi sono detto forse sarà un buon pollo 8 euro 10 euro non mi ricordo più di pollo ci abbiamo fatto 4 piatti per 2 persone adesso 4 per 2 fa 8 8 diviso 8 sono 1 euro di materia prima di pollo cioè è sostenibile? è molto sostenibile? sì è decisamente sostenibile è bella questa cosa che fai che tu acquisti da una parte e poi cucini per un tot di persone dall'altra esatto qual è stato il piatto che hai cucinato per più persone con una spesa minima? uh questo è difficile di solito sono le uova perché le uova ti consentono di fare delle cose molto interessanti tu hai studiato scusami se ti interrompo quante volte si vede che sei molto preparato ovviamente io con il cina non l'ho mai studiata sono completamente autodidatta però c'è una passione però se mi intendi c'è un qualcosa c'è una passione sì cucinola quando sono bambino quando mi sono trasferito in Gran Bretagna poi ti ripondo ero olandesi ecco perché ho fatto quella faccia prima mi sono trovato con questo grandissimo dilemma cioè io ero abbastanza povero e comunque una città come Londra è una città molto cara mi era impossibile però mangiare le schifezze proprio perché il mio corpo si rifiutava di mangiarle le uova ogni quanto l'hanno mangiata perché voi vedete ad esempio i calciatori ne mangiano due tre al giorno non esiste la definitiva su quante volte l'hanno mangiate però magari non due tre al giorno mettiamola così magari non lo so un cartoccio da sei a persona a settimana potrebbe essere una buona media dai va bene diciamo una al giorno scarsa poi le uova possono usare per moltissime cose molto bene tornerai a raccontarci sicuramente qualcosa tu sei a Roma poi spesso devo dire certo registro con di cotta di crudo una volta alla settimana il mercoledì ok quindi potete rivedere Giovanni Caponetto giusto su canale 264 digitale terrestre dalle 11.30 alle 12.30 con Manuel Bartolini che salutiamo che sicuramente è l'ascolto di questa trasmissione allora noi adesso ci fermiamo andiamo in pubblicità se tu vuoi rimanere altri cinque minuti abbiamo anche due domandine da farti perfetto quindi non ti salutiamo no dopo la pubblicità due minuti preparati perché sono due cose belle va bene rimanete là eh pubblicità grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.